Lo sapevi che Harry Cavill per girare alcuni fotogrammi a torso nudo in The Witcher decise di soffrire la sete. L'attore infatti ha deciso di sua spontanea volontà di disidratarsi. E questo per far risaltare ancora di più i suoi muscoli e farci sentire delle piccole amebe. Ed Enrico Cavillo programmò il processo in questo modo. Quattro giorni prima delle riprese avrebbe bevuto solo un litro e mezzo d'acqua, il giorno successivo solo mezzo litro e il terzo e il quarto giorno fino al momento delle riprese non avrebbe più bevuto acqua. E il risultato lo conosciamo tutti.